E tra le risposte politiche al V-Day è arrivata anche quella dell'onorevole Piero Fassino che ha partecipato alla festa dell'unità in corso al Parco Stura a Torino. Il V-Day di Beppe Grillo soltanto nella città di Torino ha raccolto migliaia e migliaia di firme contro i politici italiani, un dato che non si può ignorare. Qual è il suo parere? Che questa onda antipolitica non mi pare che faccia bene al Paese, perché quando si sarà delegittimata la politica a comandare saranno centri di potere assai meno trasparenti, assai meno verificabili e assai meno democratici. E quindi prima di delegittimare la politica bisogna pensarci due volte. Il che non toglie è che la politica debba essere capace di riformarsi e quindi debba essere capace anche di intervenire su tutti quei fenomeni e quegli aspetti che ai cittadini appaiono non accettabili.